La situazione è quella che è, non c'è partito che non sia in stato confusionale. Il PDL alle prese con il ritorno di Forza Italia non sa bene dove andrà e cosa diventerà. Il PD con l'imminente scontro tra le correnti interne che dovranno portare al rinnovo delle segreterie nazionali e regionale. L'Udc è scelta civica che cercano di darsi una nuova identità, ma senza ancora una rotta segnata. Fatto sta che le scadenze elettorali ci sono, non sono certo prorogabili e dunque i ragionamenti, volenti o nolenti, bisogna avviarli. E tant'è. Il lavoro sotto traccia c'è, ma le regionali sono inevitabilmente legate a doppio giro con il rinnovo del comune di Bari, a cominciare dal PDL. Il presidente della provincia di Bari, Francesco Scrittulli, sarà certamente candidato senza primarie. Il punto è dove. Come è noto, c'è chi propende per giocare subito la carta riportante il suo nome al comune. C'è invece chi preferisce tenerla in caldo per le regionali. Lui ci pensa e valuta. Il mandato alla provincia scade a metà 2014. Dopo pochi mesi inizierà la campagna elettorale per il rinnovo della regione. Quindi mesi di stop, tutto sommato, sono pochi. Nel frattempo tornano in ballo nei ragionamenti le alternative. Al fianco del già noto papabile Paolo Perrone, sindaco di Lecce, si fa il nome del parlamentare e avvocato di Raffaele Fitto, Francesco Paolo Sisto, Varese. In tal caso sarebbero primarie. Il dubbio di molti, però, è che il sindaco di Lecce potrebbe scontare il pegno di non essere radicato oltre i confini del Salento. Ma certamente sarebbe un'alternativa da proporre, come detto, nelle primarie, strumento che il PDL cercherà di utilizzare. Dall'altro versante di certo c'è ben poco. Antonio De Caro, parlamentare del PD, è pronto a mettere in campo la sua squadra per la campagna elettorale per il Comune di Bari, ma deve attendere l'esito del processo che lo vede coinvolto con l'accusa di aver raccomandato un suo parente in un concorso pubblico, prima di dare il via libera definitivo. Se sarà dichiarato innocente, nulla fermerà la sua corsa per il dopo Emiliano. In caso contrario, rinuncerà alla candidatura. Quanto alle regionali, in casa PD è tutto in alto mare. A giorni alterni, il governatore Nichi Vendola viene dato in partenza per Roma o per Bruxelles, e altrettanto accade per Michele Emiliano, che però è davvero difficile immaginare lontano dalla competizione regionale. A giorni alterni, in casa PD, è davvero difficile immaginare lontano dalla competizione regionale. Grazie. Grazie.